168 nuovi positivi, 2.164 persone attualmente in isolamento, 46 pazienti ricoverati solo nelle parti covid dell'azienda ospedaliera, 11 dei quali attualmente in terapia intensiva. È un quadro più che grigio quello che emerge dall'aggiornamento settimanale dell'andamento della pandemia a Padova e provincia, dove si fanno i conti anche con nuovi focolai. Una sessantina gli anziani positivi nella casa di riposo di Conselve, dove da venerdì riaprirà anche l'ospedale di comunità. Sono passati a 7 gli hotel interessati da casi nella zona termale, salgono a 11 positivi dopo la festa per le nozze d'oro a Torreglia. La situazione per ora resta però sotto controllo. La situazione è sotto controllo soprattutto per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera e il nostro obiettivo è proprio questo, cioè mantenere sotto controllo quelli che sono i nuovi ricoveri che ogni giorno arrivano appunto in ospedale. Il timore resta proprio questo, garantire la piena operatività dell'ospedale e in particolare dell'attività chirurgica. Intanto delle autorità sanitarie un accorato appello per la vaccinazione massima deve essere la fiducia anche nella terza dose. L'appello a fare la terza dose a tutte queste categorie è un appello direi accorato perché come ben sapete lo vedremo appunto con gli altri argomenti comunque l'infezione sta un po' rialzando la testa. Vaccinati con terza dose poco meno del 70 per cento degli anziani elegibili ovvero con ultima vaccinazione 180 giorni fa. Fermi al 7,5 per cento i pazienti fragili.